Ciò che emerge dai risultati di questo summit è il costante appiattimento delle politiche europee sugli obiettivi indicati dal Governo americano. Donato, la facoltà. Grazie Presidente. Abbiamo sentito dalle parole della Commissaria un lungo elenco di progetti condivisi con l'amministrazione Biden da parte dell'Unione Europea, alcuni dei quali non altrettanto condivisi dai popoli europeo e statunitense, come ad esempio quello del supporto militare e finanziario illimitato al Governo ucraino senza alcuno sforzo per arrivare a un negoziato, o come il perseguimento degli obiettivi climatici con modalità e tempistiche già dimostratesi insostenibili per il nostro sistema industriale dal punto di vista energetico e commerciale. Ciò che emerge dai risultati di questo summit è il costante appiattimento delle politiche europee sugli obiettivi indicati dal Governo americano, senza alcun dibattito né cura per i tanti punti di conflitto fra gli interessi dell'Unione e quelli degli Stati Uniti. Il distacco e l'alienazione della dirigenza UE rispetto alle richieste dei cittadini europei aumenta progressivamente e di questo vedremo i risultati presto nelle urne. Grazie.